Aia, fa male. Meno male non ha preso la pancia. Vabbè, lo scontro era praticamente inevitabile. E perdiamo un pezzo. Ehi, che abbiamo qui? Dai, subito. Lei è Elis. Su, Elis. Da bravo. Grazie. Mi vogliono ammazzare tutti. Mi vogliono ammazzare tutti. Giro un po' la telecamera per far vedere l'ambiente assai ostile. Comunque siamo arrivati all'avamposto, per fortuna. Entriamo dal cancello. Pensavo si stesse facendo le unghie. Cos'hai per noi? Niente incarichi, solo a rapporto da Isaac. Entrambi? Qualcuno di nome Elis magari vi ha ammazzato più di qualcuno dei vostri, no? Può darsi. Può darsi. No, sta zitto, va. Nove pezzi. Sempre pochi, mi so. 33, infatti. Non abbiamo a sufficienza. Bello! Era circa qui, vicino al magazzino. Merda. Stanno superando il perimetro. Sai dov'è Isaac? Era qui cinque minuti fa. Ok, grazie. Cerco in giro. Ok, per fortuna non è lasciato. Scusi, ho ragionato. Ci sarà sicuramente lei dentro. È grave, Doc. Com'è successo? Calma. Ho visto di chiara qui. Così fa male. Già. La garza sembra pulita. Sì, come va qui. Sì, sì. No, non è lei, è un'altra persona. Può essere venita. Vai, ma sì, rubarà l'alcol. Vai. Ehi, amica. Va meglio. Beh, grazie agli antidolorifici sì. 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 Mi spiace. Tieni duro. Ma è pulita quella stanza, madonna. E no, ho ancora qualche dito. Mi farei operare lì dentro manco fosse tipo l'ultima opzione prima di morire. Ma potevo andare... Eccola. Ah. Parli del diavolo. Ragazzi. Come stai? Ancora qualche punto e sarò come nuova. Ti aspetta. Dovete dire a questa testona di starsene buona. Ehi, Mel. Sta buona. Contaci. Ehi, mi servono delle braccia forti. Vi andrebbe di darmi una mano? Certo. Non scappare. Vi aspetterò qui. Buona buona. Insomma, sto rapporto da Isaac. Sei rilassata un po'. A breve mi trasferisco all'ospedale Ovest. Nora. In realtà non c'è più lei. Come sta, Mel? Spoiler. Il bambino ha valori sopra la media, ma... Sono ottimista. Qualcuno deve avvertire Owen. Lui vorrebbe essere qui. Sì. Devo farvi vedere una cosa. Cosa c'è? Le mie tette. No! Oddio. Sono nostri uomini. Sì. E ne stiamo aspettando altri. Che odore. Tutta colpa di Ellie. Non dirlo a Mel. Chiaro? Nora. Non... Non ancora. Vieni. Che c'è in quel sacco? Lo apre. Oh merda. È Danny. Dov'è Owen? Non lo so. Qualche giorno fa hanno... Hanno avvistato delle iene vicino al porto. Danny e Owen sono usciti a vedere. E oggi le guardie hanno trovato Danny vicino alla recinzione. È tornato fino a qui con un proiettile nello stomaco. Pinciassiene. I costo è pute. Isaac gli ha parlato finché era cosciente. Ma pare che nessuna unità tornerà da quelle parti. Owen, invece... Hai chiesto qualcosa ad Isaac? Sì, ci ho provato. Ma mi ha detto che... che devo stare zitta. Mi ha fulminata con lo sguardo. E quindi mi raccomando, non dite niente. Owen è uno in gamba. Di sicuro sta bene. Ultime parole famose. Dov'è Isaac? Sarò discreta. A quanto ne so io è... Beh, negli alloggi. Ok, vado a vedere come sta Mel e... Fatemi avere notizie. Certo. Cazzo. Perché Isaac non ha inviato una squadra a cercare Owen? Forse l'ha mandata senza dirlo a noi. Lo spero, cazzo. Ok, mo' dove si va? Non qui. Qui? Forse qui. Nine. Allora dentro. Adesso. Certa velocità con cui cammini, Abby... Dov'è Isaac? È dentro. Entrate. Grazie. Oh, guarda chi c'è. Ehi, ragazzi. Ti va una partita? Eh, non posso. Cerco Isaac. Come vuoi, fenomeno. È il prezzo per essere il migliore. Mhm. Ci vediamo. Come andiamo in questo posto. Cazzo. C'è un olore schifoso. Cazzo. Dopo stamattina... Avrei un paio di paroline per loro. Ti capisco. A chi sono? Ecco sto Isaac, finalmente. Ehi, Abby. Dobbiamo salire. Ma non è lui. C'è Isaac dentro. Ne ha ancora per molto? Ha detto di avvisarlo al vostro arrivo. Venite. Signore, ci sono Abby e Mandy. Come lo sta maltrattando? È nudo. Non deve addormentarsi. Signor sì. Saliamo. Tu uomo mi pare molto, molto pericoloso. Sto essere qua... Sto tipo mi convince poco poco, shit. Ho saputo che siete finiti nei guai. Non abbiamo subito perdite. Solo qualche ferito minore. Agli altri è andata peggio. Vorrei sentirlo più spesso. Mai visto la base così piena. Abbiamo ancora un giorno. Sto aspettando altre unità. Che succede, capo? Tutte queste scarmaglie. Non si può continuare così. E quindi... Cosa? Pensavo ad un'altra tregua. Ma quanto tempo passerebbe prima che qualche coglione... nostro loro mandi tutto a puttane? No. Devono essere tutti. Signore, abbiamo provato ad attaccare... Non in questo modo. E non con tutti. C'è una tempesta, a pochi giorni. Eh, ce ne siamo accorti. Per dire l'avanzata. Voi due guiderete l'avanguardia. Raccogliete le squadre. State pronti. Voglio Owen. Quando tornano lui e Danny? Danny è morto. Chi ha parlato? Nora? Nessun segreto per... È vero, non lo deve sapere lui. Owen, sta bene? Per quanto ne so. Ma... Perché non hai mandato una squadra a cercarla? Ha sparato a Danny. Per proteggere una Iena, a quanto pare. Stronzate. Chiedo scusa. Non è da Owen. Ti sbagli. Sta insinuando che in punto di morte Danny mi avrebbe mentito. Signore... Se questa voce gira... Owen è morto. La gente farà gara... Per sparargli a veste. E allora smettetela di far girare la voce. Voglio cercarlo. Lo riporto qui, andremo in fondo alla... Dicevi che manca un po' alla tempesta. No. Abbiamo soltanto una possibilità. Viene prima del bene di tutti. Di sicuro prima di Owen. Sembra un po' di legno all'interno di quella mela, però, eh. Se si fa vedere, d'accordo. Gli do il beneficio del dubbio. Andremo in fondo alla questione. Mi servi, Abby. Chiaro? Sì. Chiaro. Bene. Studia il piano e ripassa la lista. Prendi da mangiare. Poi parliamo. Cazzin è lunghissima, ragazzi. Owen non può aver ucciso Danny per una iena. Giusto? Cosa? No. Abby. No. Domattina sarò qui. Coprimi fino ad allora. Isaac ti farà a pezzi. Non prima dell'assalto. Hai sentito? Gli servo. Se Owen è là fuori, come diavolo pensi di trovarlo? So dov'è diretto. ti farò che fuori. Ciao. 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 Ciao.